Benvenuti e bentornati su Macraris sotto il cappello di Excel. Sono Chiara Alberti. Innanzitutto, tre piccole azioni per sostenere Macraris, che per noi sono veramente di grande valore. Metti un mi piace, registrati al canale e attiva il campanellino per essere avvisato quando postiamo nuovi video. Grazie! In questo video vediamo l'intelligente opzione di analisi rapida. Lo strumento analisi rapida permette appunto di analizzare in modo semplice e rapido i dati, dandoci qualche suggerimento con alcuni degli strumenti più utili in Excel, come la formattazione condizionale, i grafici o le formule. Quello che dobbiamo fare è semplicemente selezionare l'intervallo di celle su cui vogliamo focalizzarci e di cui vogliamo analizzare i dati. In basso a destra troviamo un pulsantino di analisi rapida e cliccandoci sopra si apre una piccola finestra con tante funzionalità, input e suggerimenti da cui prendere spunto per analizzare velocemente i dati. Possiamo così aggiungere una formattazione condizionale, con barre di dati, scale di colori o set di iconi. Possiamo inserire un grafico, quello più adatto alle nostre esigenze. Possiamo inserire totali, subtotali, medie, conteggi o somme. Possiamo creare tabelle o tabelle PV e possiamo inserire grafici Sparkline, linee, colonne, positivi e negativi. Tutte le funzionalità inserite verranno create accanto alla nostra tabellina senza nessun genere di sforzo. Se non l'hai ancora fatto visita il canale Macraris e il sito www.macraris.it per scoprire tanti corsi e tanto materiale con cui imparare. A presto!